A preso avvio questa mattina al Palazzo della Gran Guardia la tre giorni del Maggio Scuola in Scena, la manifestazione organizzata dall'assessorato all'istruzione del Comune di Verona per il mondo dei bambini e dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tre giorni da oggi a mercoledì dedicate all'arte e alle performance ideate e realizzate dagli studenti, così come è avvenuto questa mattina. L'obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare l'impegno didattico delle scuole nei confronti degli studenti. Tante le scuole private e pubbliche che come ogni anno hanno aderito alla manifestazione, una vera e propria festa che racconta l'impegno di insegnanti e l'alunni per conoscere ed interpretare la propria storia, le proprie origini e la propria scuola.